Equitatus si occupa di vestiario per l'equitazione Sono titolare dell'azienda Romitelli Shoes che produce stivali d'equitazione dal 1979 Un design giovane pensato per una clientela assolutamente giovane e dinamica Com'è? Bella molto, sta bene? Provate a allacciare qua Posso guardarmi? Vai Ti voglio vedere e aggiustare i piccoli dettagli Comunque il cavaliere lo tocca con mano fin da subito Tutto avanti Provalo anche tu dai Con il design vogliamo anche che il nostro cliente sopra il suo cavallo si senta il più bello di tutti i cavalieri nel concorso Com'è? Bella, sta benissimo Guarda Bella molto Sì, sta benissimo Poi il grigio mi piace un sacco E negli ultimi 5-6 anni c'è stato anche un cambio soprattutto nel prodotto per renderlo più tecnico possibile Grazie a voi Ciao Ciao Abbiamo preso un marchio già esistente e lo abbiamo inserito in un mercato che aveva già dei player importanti Ma piano piano stiamo cercando di farci spazio Prodotti vanno bene diciamo a 360 gradi nel mondo dell'equitazione e lo possono indossare sia ragazzi a livello amatoriale sia cavalieri a livello internazionale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti